Buongiorno a tutti, sono l'attuale capo Ultras del Napoli. Come vi avevo già accennato ieri, questa mattina avevo un incontro con Toir che mi aveva contattato in settimana perché ci teneva a vedermi. Che cosa succede? Io ho promesso che porterò lo scudetto a Napoli e voglio mantenere la mia promessa, però non posso sottovalutare l'offerta che mi è stata fatta dal club nero-azzurro. Toir mi ha chiesto di guidare questo sabato la tifoseria nero-azzurra nella fondamentale partita contro la Juventus. Quindi che succede? Si sono interfacciate le società, Toir ha parlato con De Laurentiis e si è arrivati ad un accordo. Andrò in prestito all'Inter per questo weekend e guiderò la tifoseria nero-azzurra. Quindi un abbraccio a tutti i tifosi interisti, vi prometto che vi farò vincere contro la Juventus. In questo modo fermeremo i bianconeri e permetteremo al mio Napoli di guadagnare punti per poter vincere lo scudetto.